In mattinata il sindaco della città di Salerno Enzo Napoli ha parlato con Prefettura e Questura perché il capoluogo, ma scene identiche vengono segnalate ovunque, sta vivendo con preoccupante fermento l'ultimo fine settimana prenatalizio. Strade invase dalle auto e spesso con più persone a bordo, traffico al centro ma pure nella zona orientale con tempi di percorrenza lunghi per attraversare la città e poi tante, troppe persone in giro, supermercati e negozi affollati, scene che contrastano con gli inviti a restare il più possibile a casa, ad evitare i contatti con altre persone perché i contagi restano, la pandemia continua inesorabile il suo percorso ma le persone sembrano incuranti di tutto ciò, tra pochi giorni l'Italia sarà tutta in zona rossa, intanto però c'è il rischio di contagi che è comunque elevato ovunque, anche a Salerno perché le scene di queste ore sono le stesse degli altri anni a pochi giorni dal Natale. L'unica differenza è la mancanza delle luminarie. Purtroppo c'è questa difficoltà, noi con questo DPCM sono stati assunti delle determinazioni, credo che creeranno anche qualche confusione. Io questa mattina ho avuto un webinar con la prefettura e con la questura per mettere appunto un possibile piano di contenimento del disordine. La Polizia Municipale e la Protezione Civile farà la sua parte, ho chiesto al prefetto e al questore di essere attenti nelle stazioni ferroviarie all'arrivo dei bus di lunga percorrenza, ho parlato con Mario Iervolino, direttore generale dell'ASL che mi ha garantito che verranno nelle zone di sbarco dei pullman e alle stazioni verranno allestiti dei punti dell'ASL per la verifica delle temperature ed eventuali altre azioni. È un momento complicato perché questa zona gialla prelude ad atteggiamenti che abbiamo visto anche in altre circostanze, cioè sembrerebbe una sorta di liberi tutti ma così non è. Noi abbiamo tenuto chiuso il lungomare, la piazza San Francesco, piazza Abate Conforti per dare un segnale da un lato di rigore simbolico, dall'altro anche fattuale, nel senso che se noi facciamo sciamare le persone dappertutto non riusciamo a concentrarci sui controlli che dobbiamo fare. Allora la linea del rigore è quella che ci deve contrassegnare. Firmerò più tardi un'ordinanza che vieterà la vendita di sostanze, di bibite alcolico o no, in bottiglia. Dovranno essere versate nei bicchieri e bevute in questo modo. Anche per evitare che ci siano magari un po' sospinti da qualche entusiasmo alcolico ci possono essere anche dei pericoli con le bottiglie in circolazione. Vi renderete conto che tutto si fonda non tanto sull'aspetto repressivo, che pure ahimè dovrà esserci, piuttosto che su un aspetto persuasivo. Ciascuno di noi deve farsi carico di persuadere gli altri e fare in modo che ciascuno di noi sia responsabile di se stesso e degli altri. Bisogna che passi questo convincimento, altrimenti saremo in grandi difficoltà.